Se tu vieni qui che sei una persona sposata e ti metti a guardare le belle donne, non è che ti è vietato, ma sicuramente non sarai una persona accettata da loro, perché la loro cultura, la cosa più rispettata deve essere la famiglia. Se vai a Milano non interessa a nessuno se tu guardi una donna bella oppure che tu sei sposato o non sposato, no, qua è diverso. Io in questa cultura mi ci ritrovo perché da bambino sono cresciuto con i miei nonni, in cui la prima cosa principale che mi hanno insegnato è che la famiglia è sacra e quindi ci sono delle regole, ma non rispettate. Sì, però il terreno è scimoloso, Silvio, perché la famiglia è sacra, però se vogliamo guardare anche una bella donna non credo che ci sia niente di male. La domanda però che ti faccio... Sì, ma non hai capito, se tu guardi una bella donna non c'è niente di male, ma se tu sei sposato e vogli figli è inutile che vuoi andare a te a scopare quella lì che è una ragazzina, farò bene a tagliarti i coglioni, perché la maggior parte...